Ciao, mi chiamo Paperotti e sono un pupazzo della Tami Star, pupazzi. È arrivata l'estate, tutti in piscina, sopra l'ombrellone, mi liebani e vivo, spero che non finirà mai. È arrivata l'estate, tutti in piscina, mi liebani e via, spero che non finirà mai. Ciao, io mi chiamo Giada e sono un allievo della scuola dei pupazzi. Ciao, io sono fissato e sono un allievo della scuola dei pupazzi. Pinco era morto, Pinco era morto, poi era vivo, poi era vivo, alla fine Pinco moriva e risuscitava. Pinco era morto, poi era vivo, poi era morto, poi era vivo, alla fine Pinco moriva e risuscitava. Pinco era morto, poi era vivo, poi era morto, alla fine Pinco moriva e risuscitava. Grazie, ciao e grazie. Grazie a tutti. Ciao, io mi chiamo Nunca e sono una pupazza della scuola dei pupazzi. Ciao, io mi chiamo Nunca e sono una pupazza della scuola dei pupazzi. Aveva una casetta piccolina in Canada, con baschi e pesciolini e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Quando Marti vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va. solo senza una meta, solo ma c'è un perché, aveva una casetta piccolina in Canada, con baschi e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, ma un giorno per rispetto, il picco va, incendiò, e a tutti il poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò, lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con baschi e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con baschi e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada.